Salernitana scatenata e da questo punto anche ambiziosa oggi l'arrivo di Duric e Iallo a Salerno. Ieri al Mary Rose si sono allenati Di Tacchio e Andre Anderson. Insomma, tutte le operazioni che Fabiani aveva nel mirino sono state centrate. Partiamo da Di Tacchio. Il centrocampista ex Avellino ha firmato un triennale con la Salernitana voltando immediatamente pagina. Il suo ingaggio prelude alla gestione di Franco Signorelli, entrambi sono assistiti da Mario Giuffredi. Ieri pomeriggio al Mary Rose si è visto anche il 19enne trequartista brasiliano Andre Anderson Pomilio da Silva, noto più semplicemente come Andre Anderson. La Lazio lo ha preso dal Santos girandolo in prestito alla Salernitana. Molti dicono che il gioiello sudamericano sia un vero talento. Bisognerà naturalmente vederlo sul campo. O artigliero, l'artigliere, il bomber, come viene chiamato nel suo paese, è capace di abbinare fantasia e concretezza in zona goal. Due anni fa nella Coppa di Brasile Under 17 fu il miglior marcatore. Non gioca però da ottobre scorso una partita intera. Milan Diuric sarà oggi a Salerno. L'attaccante bosniaco è partito da Bristol alle 12.10, arriverà a Roma alle 15.45. Ieri pomeriggio, nella sede della Salernitana, è arrivata la documentazione del trasferimento controfirmata dal Bristol City che poi alle 19 ha ufficializzato la cessione. Insomma, l'ha spuntata a Fabiani che non ha mai mollato la presa ma contemporaneamente non ha ceduto oltremisura alle pretese economiche del club inglese. Diuric già domani sarà a disposizione di Stefano Colantuono. E questa sera arriverà a Salerno anche la Miglialova. Ieri pomeriggio l'attaccante Gambiano è finalmente entrato in possesso del passaporto convisto rilasciatogli dall'ambasciata italiana del Senegal a Dakar. Poi in serata è il volo che lo sta portando a Roma, dove arriverà alle 16.30. Quindi il trasferimento a Salerno dove Jalov, accompagnato dai suoi agenti Paloni e Sorrentino, firmerà il contratto che lo legherà alla Salernitana. In videoconferenza da Cortina ci sarà il coppatron Granata Claudio Lotito. Da definire la formula del trasferimento, che molto probabilmente sarà quella del prestito con obbligo di riscatto già fissato a 2 milioni e mezzo. In lista di sbarco, oltre a Signorelli, ci sono Cicerelli, Boccalon, che piace anche a Lascoli, e Vitale. In stand-by la trattativa col Bruges per l'esterno mancino Ahmed Touba. Ieri intanto al Meri-Rosi si è rivisto anche il difensore Bernardini.